Simonetta Agnello Ormi sostiene Palermo città della cultura 2019, quali sono i punti di forza? I punti di forza secondo me sono quelli meno inconsueti, non è che è bellissima perché lo è, non è che è una città con uno dei più grandi, veramente uno dei più grandi teatri di lirica di tutta l'Europa, ma il fatto della legalità, a Palermo c'è sempre stato un rispetto della legalità, una conoscenza di questo con tutti i guai che abbiamo avuto della mafia, che abbiamo avuto e che purtroppo non abbiamo sradicato. Il palermitano come cittadino vuole una città pulita, a Palermo sono nati grandissimi giuristi, gente che ha dato la vita per la legalità, non dimentichiamo mai che il nostro aeroporto si chiama Falcone Borsellino e in questo noi come capitale d'Europa dobbiamo fare vedere a tutto il resto dell'Europa dove c'è illegalità, in tanti posti, nell'Europa dell'Eist e nell'Europa occidentale, che noi siamo una degna capitale della cultura europea. Io faccio la scrittrice e sono stato un avvocato per 40 anni, il lavoro più importante che ho mai fatto è quello di avvocato, rappresentare il cliente al meglio delle mie capacità senza dare un giudizio, altro che un giudizio legale, è un diritto fondamentale dell'uomo. Se non c'è giustizia, e la giustizia non ci può essere se qualcuno non parla per l'accusato o per la parte nel diritto civile, una società crolla. È brutta la perfezione perché è presunzione. Palermo è imperfetta come tante altre città. Io sono fiera di essere palermitana, sono anche londinese, ma Palermo è più viva, è più bella, è più sprizzante, ha più storia, ha un calore, ha una dimensione umana, ha una dimensione civile quasi unica, secondo me, con tutti i guai che abbiamo. Forte è la sua esperienza all'estero, lo studio legale che si è occupato di comunità e di immigrati. Un pensiero sul fenomeno dell'immigrazione qui in Sicilia? Io sono un'emigrante, ovviamente, per cui sono emigrata in Inghilterra e sono emigrante da tutti i punti di vista. Noi abbiamo sempre avuto una immigrazione. Era un'emigrazione piccola e povera dal bacino del Mediterraneo. Raramente c'era un'emigrazione dal nord Italia, emigravamo noi da loro. L'emigrazione rende un paese grande. L'Inghilterra, che è il mio secondo paese, è grande grazie agli emigranti. Sono gli emigranti che hanno portato sangue nuove, che hanno portato novità, gli ugonotti nel 1600, gli ebrei due secoli fa. L'emigrazione ha reso un popolo che sarebbe stato forse un popolo di pastori e di guerrieri e null'altro un grande popolo. La Sicilia ha dato tanti siciliani all'estero, ma siamo, secondo me, molto aperti all'emigrante. Io sono rimasta commossa e impressionata da quello che hanno fatto tutti i paesi e le isole, soprattutto sulla costa del sud, con questi emigranti che venivano su queste navi. Tanti altri paesi non avrebbero dato tanto a loro. Io vorrei dire che l'Italia è un punto di dibalezza, per esempio, sui diritti all'interno della famiglia, con la violenza domestica che c'è. Io non credo che la Sicilia sia peggio o meglio del resto dell'Italia da questo punto di vista, però non è un giudizio che posso dare perché non esercito come avvocato qui. Io devo stare attenta a quello che dico, su quello che so, o quello che sento dire, o quello che penso. E come avvocato non posso parlare della Sicilia. Io posso dire solo che sono stata invitata da tanti gruppi che vogliono una giustizia maggiore, oppure gruppi di avvocati che si occupano dell'infanzia e della famiglia in Sicilia, come nel resto dell'Italia. Palermo è considerata la capitale della Sicilia, però non sanno neanche bene che significa capitale della Sicilia. Solo noi sappiamo che c'è una regione. La conoscono come una città di grande storia e di grande bellezza, ma questa è sempre la gente più colta. Conoscono la Sicilia tutti, purtroppo, per la mafia. Lì non ci piove. Palermo come capitale sì, però a volte Corleone è più famosa di Palermo.